Siamo fuori il mio caro! Gigantesca, sono tutti buoni Cioè nel senso si può entrare ovunque Sono tutti mini tunnel Il problema è che l'ho creata poco fa E vi assicuro che non so dove stanno le cose Regà, è troppo grande per ricordare tutto Questo succede Però se trovo un cangiali Visto che sono il creatore Lo dono a qualcuno della mia squadra Regà No, no regà io non lo so dove sta la roba Regà io vi giuro Vi giuro che vorrei tanto sapere A parte pure quella cangiali che era Tutta armata No che mi arano Oh zitti No niente regà Ma stanno a far panico Seventi Che sta combinando Ah regà Calcolate che c'è un problema con i box Praticamente Vedete che porc mozza GR C'ha il box rotto Potrebbe succedere che noi lo vediamo intero il box Quindi diventa ancora più complicato Regà Ok Secondo round Regà Però io Come minimo devo fare qualcosa Nella mia mystery box No? Allora Dove stanno questi cangiali? Regà ho messo la Toreador Ho messo la Tlax Io ho messo tutto Io vi giuro Ho messo tutto Una Una stava tipo all'angoletto Regà forse Aspettate Tipo quella parte lì Non sono sicuro No Non c'abbiamo niente Regà Aspettate Forse qualcosa Mi sono ricordato Non ci voglio credi Va bene Lo stesso Uh C'abbiamo questo Regà Aspettate che lo prendo Ok Io però una piccola Chi la voglio fare Adesso di fare un saluto Grandissimo Gianni Buon compleanno Auguri Oh ma non si rompe Non ci voglio credere Regà Non ci voglio di nuovo crede Comunque c'è qualcosa lì Eh Sentite Andiamo là dentro No Regà È tostissima Perché ho messo una marea di armi No andiamo a prendere Anche se La scrumjet Non è che fa Proprio tantissimo Questa misteri Perché non so dove sparare Però c'è tanta gente in giro Quindi sì Ok Allora io Voglio andare a prendere La scrumjet Che sono sicuro Che sia Vi faccio un po' di kill Perché sta rimanendo trollato Ma misteri mia Che la P.U. stavo a far panico Che la misteri box era la sua Aspettate Ok E così non si rompe Dobbiamo andarci proprio contro Grazie Grazie sui Guarda prima che prendono qualcosa Regà Perché l'ambiente è minuscolo Quindi È normale che ci killano subito Sui Buono Qui c'era la mitraglietta Regà No Sì 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 Eccola Regà Ve l'avevo detto Io mi sparo un po' di kill Poi la lascio Regà Allora E sono il creator Quindi merito Merito queste cose Merito shadow Povero shadow Se lì nella mia squadra C'avevi questa bella scrumgettina C'è qualcuno lì? Non c'è nessuno Qualcuno che sarta Regà Oh Dove? Dove? Ok Ok Darkness Quelli con lanciapatate Mi preoccupano Ok Ce n'è uno esattamente lì Aspettate Ok Regà Ci voglio credere Soffritto Soffritta Voglio lasciare qualcuno Regà Lo voglio lasciare qualcuno Sui Se qualcuno viene Regà Vi regalo questa splendida Deliziosa Scramjet Non il nemico Aspetta Sta passa uno Non so dove Regà Che pugni Che è pieno De lanciapatate Seventi Regà Qualcuno Della mia squadra Che viene qua Sasi 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 vieni Tutta per te Sui Hai visto che gentile Sali Sali Non ci crede nemmeno lui Regà Andiamo Ne rimangono due Sasi L'altra volta Dove fa Piccola kill Occhio che a me Sasi hanno Un lancio Una nascosta radar Mamma mia Che paura Regà Sta in quel box Io l'ho visto Poco fa Dici là Sta lì No Sta più su Allora lo Borkmoz E ci attacca C4 Non si sa Dove Regà Però c'è Lanciapatate Ah non mi sa Che l'ha visto Se sta qua sotto Oddio da qui Basta che salti Ma non sta qui Sui Fammi scende Fammi scende Fammi scende Che io prendo Il C4 Ok Vai vai Sui Continuo Tranquillo Sui Ho fatto fuori Forse c'è Forse c'è qualcuno Qua sopra Regà E' questo il box Si E' questo il box Sa si E' sceso No Si è buttato Niente kill Per noi Niente kill Vabbè Vabbè Io un po' L'ho fatto Round Vincitore Prossimo round Ok Quarto round Poi c'ha il problema Questa mystery Che non mette La maschera Regà Purtroppo Il file Quello con Tante scatole Non funziona La maschera Allora Io voglio un Cangiali Però Il Cangialino Eppure voglio fare Qualche bella kill Diversa Regà Leggermente Diversa Asui Mannaggia Andiamo nei piani Alti Ok Le rampette Le ho messe così Regà Perché almeno Uno avanza così Ah Non si è rotto Regà No forse ho toccato Solo il tetto Mi serve qualche arma Regà Che qui già stanno a sparare Bel cecchino E' bello pure qui Ma quanto Sono belli I miei salti Regà E' facile non è Ok Almeno un'arma Oh Di nuovo questo Regà Sapete perché Ho messo questa Mitraglietta Grazie sui Però non se rubano Le loro kill Chi la rubate sui Perché questa Pistoletta Fa questo Regà Questa è la meraviglia Vai Vai Mi stanno a sparare Regà Dai Uh Stanno a far panico Però eh Quasi finito i colpi No Non puoi ricaricare Perché non c'ho Altri Ok C'è gente che sta qui Sono tutti qua Mi servirebbe Un lanciapatate Dall'altra parte Mamma mia Liaro Un rpg Regà Che li ho messi Gli rpg Cioio Credi Se c'hanno L'rpg Soffritto Ho parlato di fumi No regà Soffritto Veramente Stavolta Siamo Fritti Ma quanta sfortuna Ci Non so Vedi Ci vuoi Grigli Ok Allora Oh Wow Regà Questo Oh mio Dio No C'hanno l'rpg Hanno l'rpg Ma non so dove stanno Regà Mamma mia Che l'ha più C'aveva l'rpg Regà Ce n'è un altro Sta giù Ma non so dove Regà Con il piedino Regà Forse i piedi Posso prendere Se mi rompete il box C'è qualcuno Che sta qui Quale box Regà Forse è questo No Dove stava Shadow Regà Non lo so Qual era il box Vediamo un po' Partita vincitore No Round vincitore Ok Quinto round Regà Io però voglio fare Un bel round Carino C'è uno di quelli Devastanti Ok Ancora 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 Regà Non l'ho trovato Io vi assicuro Che ho messo Tanto Di quella robetta Regà Ma proprio Tanta Che cosa è successo Regà Non ci abbiamo Nada Allora Aspettate Ho lasciato Un bel po' Di spazio Così almeno Si rompono i box Regà Buono Cecchino Piano alto Però Il cecchino Non rompe Eh no Regà Pecchiato Se no rimanevo qui Comunque nei piani alti Ce ne stanno Le coschine buone Cosa Dai Non si poteva rompe Due secondi Che abbiamo Un bel cecchino Squadra mia Sui Non ci voglio Credo Il nemico Il nemico Regalo Sei te i sui Sei te i sui No Vabbè sui Sei nemico Aspetta Aspetta Ok Ho detto di andare Tranquillo E' a misteri Mia sui Vai tranquillo Io vado Con la macchinetta Però Lasciami in pace Cioè Non mi Killare Ci voglio Ci voglio Credere Poi Shadow Non savo Seventi Abbiamo vinto Comunque Mamma mia Regà Tutti armati E Quelli che mi avevano Arata a me Regà Non si sa che è successo Vediamo Dovrebbe essere Un bel partita Vincitore Partita Vincitore Avviamo subito Altri round Della mia Nuova mystery Ok Regà Nuovi round Allora Comunque E' complicata Perché veramente Ho messo Tanti 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 Box Regà Cioè Avete visto C'è il cangiali Ma Qual è il piano Il secondo piano Ma di quale parte Regà Quale Non ci voglio Credere Regà Mi giuro Non ci voglio Credere Io non dico Niente No Sui Non dico Niente Basta Dimmi almeno Che eri della mia Squadra Sui Te lo regalo Con tutto il cuore Se eri della mia Squadra Ma anche se Rinemico Dai sui No No Regà Questo andò A succedere Nel modo Più assoluto Regà Cioè Antichic Tra tante persone C'è un chiaro scumo Un paro di Fumi Un stasimozzo Un gabrile 18 78 Potevano prendere Il cararmato Chi lo va a prendere Ma poi sono pieni Di cararmati Oramai Non paro Tutta Misteri Regà Solo io Non l'ho imparato E sono andato a fortuna Allora Teoricamente Perché non mi indica Il nord Ok Ok È al sud Noi guardiamo qua Eh sì È al sud Il cararmato Però che box era Ok Secondo round Allora Antichic Non mi doveva Killare Regà Carino perché tutti partiamo Dentro il box Regà Poi si avviare La mystery box Succede tutto Casino Abbiamo detto Ci voglio Credi Abbiamo detto A sud Dove sta Al sud Di qua Ok ok Scusami Eh qui Quindi Quindi Qui No regà Non lo so dove sta Non ho idea Io non ci ho capito Niente Non dico Assolutamente Niente Nemmeno riesco A salire Qua me l'immaginavo Leggermente Più Più easy Te lo assicuro Quando l'ho creata Un bel C4 Però ci abbiamo Rimettete bene Per favore Sui Fregate Però esagerato Con lancia granate Regà Una cosa che Non farò più Quell'amico Sì Amico Amico No 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 Ci dobbiamo andare via Mi hanno attaccato Mi hanno attaccato Il C4 No regà Ci voglio Griti La rampetta La voglio mettere Leggermente meglio Però E proprio questo È il bello Bisogna andare In quelli più bassi Farò cabri 18 In quelli più bassi Regà Andiamo Così almeno Riusciamo a scavalcare Cioè a salire Piano piano Tutti Quanti in box Ok Tipo così Regà Pistoletta P La prendiamo Ne rimane solo No Ne rimangono due C'è qualcuno? No Non c'è nessuno Un cecchino Un cecchino Però mi gusta Regà Perché se andiamo Nel box Di fronte Sperando che Non hanno niente Ok Mi piace pure Come si è aperto Il box Nascosta radar C'è qualcuno? Sì Mi devo indicare Mi devo indicare Dai regà Trema troppa Visuale Regà Fermi Guarda che è allagato Regà Allagato Oh Che casino Fendi colpi Regà C'è qualcuno Che sta lì Regà Tremava Tutta La visuale Non si può Usare Il cecchino Oh Sui Scusami Aspettate Aspetta Ah ma C'avete pure Che era armato C'avete tutto quanto Quanto siete armati Dove sta? Ah in cima In cima Regà Abbiamo vinto? Sì Abbiamo vinto Regà Oh a miniatura Mi devo sparare Round vincitore Prossimo round Ok Terzo round Allora Andiamo a prendere Scramjet Regà Che dite Sì sì Gli ultimi round Possiamo fare la strage Dai Siamo stati fin Troppo gentili Eh Qui 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 la scramjet Sì Se partiamo Con la macchina Gialla È qua Ok Perfetto Mi gusta E Prendiamo sempre Un'arma Regà Che ci può servire Eh ho sbagliato proprio Mi ha deviato Quando ho fatto La retromarcia Non è qui Un altro box Sopra Regà Un altro box Non speriamo solo Che quando facciamo La retromarcia Sì 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 Che è Che c'ha Regà Sei strane Allora Rimettiamoci bene Anzi scendiamo Adesso abbiamo Una bella scramjet Che esplosioni Questo video Oh mio dio Pensavo se stava A bug Stava andando Nell'altro box Regà C'è un care armato Dov'è Sì 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 Quello lo bicchiamo Perfetto Il care armato Voglio io Regà Non c'è nessuno Alla no Già lì dov'è Sta ancora dentro Il box Sì Aspettate Siamo in due Siamo solo io Ci voglio Crede Forse Mi stanno a sparare Regà Che è che Mi sta a sparare Con l'RPG Regà Ma non è qui Non è qui Regà Era complicato Regà Cioè La scramjet Serve Non serve Qui Ok Quarto round Comunque E' meglio Trovare un bel RPG E rimanere da qualche parte Secondo me Si fa molto Molto di più Di Una bella macchinetta Se no Il cangiali Quello sì Quello è OP Forse è qui il cangiali No No regà Ci ho provato Ma non è qui Dobbiamo andare ai piani alti Su Princess Ok regà Aspettate Perché C'è un box Gigantesco E noi dobbiamo fare Queste cose Regà Ok Niente Già cominciano a sparare Regà Allora andiamo indietro Ok Mi gusta Niente di speciale Vero No Assolutamente niente Emgret Guardalo che si è messo Bello tranquillo Col cangiali E io invece Devo subirmi le kill Vai Gabri 18 Oh mio dio Gabri 18 Come ha fatto Entrare là Non ho capito Cosa è successo Ok regà Ultimo round Chi vince Questo Vince tutto Assolutamente Tutto Ok Andiamo Andiamo Meteo Neve Oh zitti Dio quanto Scivola Regà Oh parodi Che scivola Sto macchinetto Scivola E si può gioco sui Vai la gioco sui Aspettate Non prendiamo l'arma Stavolta Dico niente Perché non si rompono Guardate Regà Era meglio Che prendevo Quell'arma Ci ho ripensato Almeno qualcosa Fatemi fare No sta arrivando Il cangiali Oh mio dio Sui Manco Non vorrei che Il cangiali Mi becca Sì 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 Almeno qua ci siamo RPG Mi gusta RPG Regà Io manco qua Zitto zitto Ok Vediamo Chi c'è sta Regà Un anti-kick Lì Quell'amico Nostro Lì non so Se c'è il nemico Chi è che mi sta Sparare Regà Non vedo Non vedo Non vedo No Non mi stanno Sparare da sotto Regà Ah no È Sasi Mods Mannaggia Lui Quello sta Sopra Al suino Non so dove Non ho idea Sasi Affedisce Mi farei Prendi Colpi Regà Dove sta L'altro Indica Su Ma dove Ho zitti Che c'è uno Trollato L'hanno preso L'hanno preso E quello che sta lì Cioè Mi rendete conto Sasi Sasi Io non so Che te combino Regà Do sta Quisto Da che Dovano Kill Niente Abbiamo vinto Però Vincitore Che doveva vincere Questo Vinceva tutto Regà Non abbiamo combinato Niente Ma va bene così Se vi è piaciuta La mia nuova Mystery Box Hyper Lasciate un bel Mi piace Iscrivetevi al canale E noi ci becchiamo Al prossimo video Bello E noi ci becchiamo